Era scomparsa da qualche giorno una giovane mucca dall'allevamento De Maria di Claino Conosceno. Pascolava in un prato sotto la cascina De Maria in località Pre, sopra il fiume Pe. Non è ancora chiara la dinamica di come la mucca si sia allontanata dal campo, probabilmente con un cancello lasciato aperto da qualche passante. Sta di fatto che la mucca scomparsa era stata cercata da De Maria e dai suoi figli per alcuni giorni. Ieri, 8 maggio, dopo sbariate ricerche, l'avevano ritrovata sotto una cascata in una pozza in un canyon sul fiume Telo. La giovane bestia era in perfette condizioni di salute. Dopo averle portato un po' di fieno per farle passare la notte, questa mattina già dall'alba dei vigili del fuoco di menaggio di Como e del SAF, hanno incominciato le prime operazioni che era il filtro dell'animale. Nel pomeriggio di oggi l'autorizzazione della regione Lombardia per far intervenire l'elicottero della Heli West di Astima in distaccamento a Bergamo. L'elicottero era giunto nel tardio pomeriggio e con la collaborazione dei vigili del fuoco del SAF, l'animale è stato imbragato e fu trasportato attraverso un elicottero alla fattoria che si trovava poco distante. Ehi, arriva! Nessun danno fisico per l'animale che è stato trasportato con tutte le precauzioni del caso. Una storia che vede coinvolto in un animale è che una volta tanto finisce bene. Sicuramente la mucca si ricorderà di questo magico pomeriggio attraversando il cielo della valle di Intervi. Grazie! 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 Grazie!